E' la seconda ripresa, si preparano riso e guadagno. E' la seconda ripresa, si preparano riso e guadagno. E' la seconda ripresa, si preparano riso e guadagno. E' la seconda ripresa, si preparano riso e guadagno. E' la seconda ripresa, si preparano riso e guadagno. E' la seconda ripresa, si preparano riso e guadagno. Grazie. 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 Grazie.